Renato Zero, festeggi i primi 50 anni della tua carriera con Zeroski. Perché questa festa e qual è l'emozione che hai nel festeggiare? L'emozione è tanta perché si arriva a questo appuntamento dopo una serie di esperienze, dopo aver anche realizzato molti brani con questa particolare vicinanza con il classico, con una scrittura musicale alta e di grande spessore. Quindi è bello anche poter condividere il palcoscenico con 100 persone questa volta, quindi è un impegno quello anche stimolante molto. In questo spettacolo c'è un po' tutto l'universo Zero, c'è il teatro, c'è la musica pop, c'è la musica sinfonica, c'è la voglia di giocare con le parole e anche con la danza. Tu ti metterai in gioco su tutte queste componenti della tua arte? La danza no questa volta, però i movimenti sì. Io per danza evidentemente intendo anche il movimento perché ciò che un corpo riesce a fare è talmente musicale alcune volte, è talmente poetico che può in qualche modo dare adito anche a questa interpretazione della danza. Questo me lo insegnò anche Victo Spinetti che era il regista dei Beatles, quando facemmo Hair, il musical in Italia, eravamo tutti in platea e lui mi disse se vai, vai sul palcoscenico e mi mandò sul palcoscenico e tutti gli altri ragazzi a loro volta, ognuno, uno alla volta andarono sul palco, quella presenza di una sola persona sul palcoscenico significava vita. Si vedeva questa trasformazione di queste tavole del palcoscenico così nude ma con la presenza poi di un essere, di una persona improvvisamente diventava anche danza. Zeroski, solo per amore è anche il titolo del tuo nuovo disco di inediti. Solo per amore nel senso che dopo tanto tempo si va avanti solo per amore? No, si va avanti con tanti spunti e tanti suggerimenti e tante necessità anche, no? Però questa volta diciamo che il personaggio Zeroski vuole in qualche modo approfittare dell'amore per raccontare se stesso e il mondo. Quindi è normale che la spinta maggiore per realizzare quest'opera e anche per muoverla sul palcoscenico sia sostanzialmente l'amore. Grazie, ti aspettiamo. Grazie. Grazie. Grazie.